bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi parliamo un pochettino di curiosità su fortnite come sapete ragazzi la cosa che caratterizza fortnite dagli altri videogiochi è appunto la possibilità di costruire farmando materiale in giro per la mappa legno pietra e ferro abbiamo visto ragazzi però come ogni tanto oltre che utilizzare le costruzioni come pura e semplice difesa o come anche basi di partenza per fare dei push o degli attacchi sia molto divertente utilizzarle per fare cose particolari nella nostra mappa di gioco abbiamo già visto ragazzi qualche mese fa un video dei two players one console dove insieme all'aiuto di altri utenti riempivano praticamente chiudevano il lago il salty lake che c'è nella mappa di fortnite e voi dite i caspita chiudere salty lake è tanta roba è grande e io sono d'accordo hanno fatto una roba bellissima bei ragazzi ho pescato questo video su internet e non ricordo chi fosse l'autore però deve essere uno youtuber americano inglese ragazzi voglio farvi vedere come cacchio hanno fatto questi a chiudere il buco del meteorite ragazzi hanno riparato tutto ha messo giù un pianale che l'era un piase ragazzi ce lo andiamo a vedere insieme eccola qua la clip aspetta che parte dovrebbe partire la clip non parte la clip parte ecco guardate guardate qua stanno già facendo vedere la parte finale raga guardate che roba io mi rimpicciolisco così voi lo vedete meglio l'operazione nel dettaglio ci dice guarda che roba sono partiti dal nord gli hanno aiutati aiutati in 17 poi hanno messo due squadre di guardie che andavano praticamente a ma guardate guardate mi permetto di stopparlo un attimo guardate che roba mastodontica fino qua ragazzi cioè hanno messo le torri di guardia per evitare che entrassero altri player quindi non era una partita proprio come si dice fatta apposta hanno deciso di entrare in un server hanno cominciato e aslodone as more and more tre hearted shotting as dead perché era difficile visto che la gente gli sparava guarda 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 che roba guarda che roba hanno chiuso la zona hanno chiuso la costruzione quasi al limite anzi la safe li aveva già colpiti guardate che roba ragazzi guardate che roba dusty depot completamente chiusa dalle basi di legno qua ce la fa vedere ci danno anche dei dettagli tra pochi istanti meravigliosa meravigliosa dimensioni 50 metri per 50 per 50 cosi hanno usato 25 mila risorse hanno piazzato circa 2500 cosi ha coperto un settantesimo della mappa e dicevano che sembrava come è la base della piramide di giza beh ragazzi guardate che roba qua fanno i ringraziamenti a tutti quelli che li hanno aiutati ci torniamo un pelino indietro per vederla guardate che meraviglia ragazzi incredibile incredibile hanno completamente ah gli mancava un angolino no guardalo lì guardalo lì là in fondo eh gli mancava l'angolino no ragazzi veramente molto molto bello da vedere beh ragazzi questa era una curiosità che volevo farvi vedere su fortnite io vi ringrazio per avere guardato questo video noi ci vediamo in live ciao 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 Grazie a tutti.